Musica Non sono state offline Sono stato offline su youtube Ma no Su Clash of Clash Brawl Stars E Castle Clash E tutti gli altri giochi Vabbè Castle Clash Vabbè che Tanto Non lo carico su youtube Però fa niente dai Se si carica Grandi bravi Allora Ora vi faccio vedere un po' Cosa ho fatto Allora Prima di tutto possiamo notare Castle Clash of Clash Livello 4 L'ho portato si Al livello 4 Pota Dopo Un Torre di bombardiera Al Uno L'ho presa Ehm Poi cosa manca Cosa manca Mancherebbero queste E questo Mh Molto interessante ragazzoni Molto interessante Comunque a me mi piace Tanti Che sto facendo Sono davvero Orgogliosi di me Che sono Riuscito a farlo Dopo abbiamo Un re barbara Un livello 2 Che siamo riusciti A farlo Abbiamo Già 6.320 Elisir nero E niente Attecchiamo Subito Un bellissimo Difensore Con 2 pecca 2 draghi 10 Stregoni E 6 Scusate 6 Ben 6 Giganti Ok Non ci perdiamo Chiacchiare Perché stiamo Un po' Parlando Troppo No Giusto Come che raga Ditemi Che sotto Nei commenti Se vi piace L'intro Perché Se dite Di no Io cambio Perché riesco A cambiarla Perché ormai Ho capito Capito Quale usare E voi Se siete youtuber E non sapete fare L'intro Farò Un tutorial Però Ovviamente 5 like 5 like Per il tutorial Perché Sono tanti Sono tanti 5 like Però Tutorial E tutorial Non credete Raga Allora Mettiamo Giganti Che Ne ho donato Anche Allora Mettiamo Una furietta Forse Non lo so No Non la mettiamo Non la mettiamo Perché Non è Questo Crank Che ho attaccato A morti tutti Ho sbagliato Ad attaccare Così Valissimo Vale Vale E niente E niente Niente Abbiamo fatto Un brutto Attacco 35% A proposito Dei attacchi Adesso Ve li devo far vedere Per forza Attacchi Meravigliosi Ho fatto Meravigliosi Posso dire Non ve lo faccio vedere Perché Sennò Sprechiamo il tempo Raga Sprechiamo il tempo Perché Ve lo farò vedere Forse Se volete In Un video A proposita Di quello Cosa ho detto A proposita Ma sono italiano Figa Ma che problemi C'ho Raga Hashtag Problemi Aiden Che problemi Che ha Aiden E io Metterò un cuore A caso Così me lo fate Tattico Escrivere Una gemma Ovviamente Magari Tante Semuzze Ma io Cioè Ma non mi ha fatto Un cazzo Delle lanterne Io me le prendo Cioè Prendo anche Le fia Cazzo Vuoi Meglio di così Quante le fia E poi 75 mila Non è Male Non è male Ah comunque Abbiamo Gli arcieri Al nove Se non sbaglio Al nove Barbary Al dieci Cioè Va bene Ah raga Fatemi sapere Non so se l'ho detto Ma io sono Anzi Tordito E coglione Segurlo E Non mi ricordo Cosa ho detto Fatemi sapere Se volete Nella serie Castle Flash Che io ci gioco Anche se Come dici Di no Perché Uno lo sapete Perché Ormai è passato Di nuova Da tempo Era di nuova Nel 2008 Nei mesi E Non credo Però Che ne sapete Che ne so io Che ne so io Ok 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 Mi dice Cazzo Mi prenderei Un vato di gemme No niente Non va niente Ok Vittoria 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 Ciao Vittoria Tu quale Di nuove Vittoria Lascia un like Perché ho detto Vittoria Nice Grandissimo Aiden Sempre così Con la tua Intelligenza Di Ecco Non lo diciamo Forse No Anche no Perché Non voglio dire Cose brutte Vabbè Non sono cose brutte Stavo dicendo Di merda Vabbè I problemi Che si fa Aiden Eccoli qua Non i problemi Di matematica Ehm Ma se ne puoi Io Dai Facciamo uno qua Dai Devo fare Qua Oh Yes 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 No 50% Sì 50% Sì E 50% No Non ci credo Non ci credo Io Non ci credo 39% Lui ha fatto una stella E ha fatto 36% Sicuro Sicuro Ha fatto meno per cento Ma ha fatto una stella Sicuro Ma sicuro C'è Mi sembra così Guarda 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 Rego guarda Ve l'ho detto Ve l'ho detto Vabbè Allora Mettiamo Qua tutti i barbarotti Anche qua Sibilmente Ehm Mettiamo anche qua Queste E fare compagnia No certo Per rompere quella Ehm Ok Bene Facciamo entrare Facciamo entrare Ehm 50% Una stella fatta Bene così Bene così Bene 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 Mi piace Mi piace Questa stella Mi piace Questo Questa partita Non è andata bene Non è andata Neanche Eh Eh Non è andata Benissimo Ma non è andata male È andata giusto Cioè Va bene È andata bene Ma Chi sta Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Non è la canzone Ci sta Ci sta Ecco No eh No ci sta davvero Un attacco Va bene Facciamo un altro Attacco Siamo a 8 minuti Quindi tra poco Vi lascio Quindi tra poco Vi lascio Troppo bello C'è Sono Cominque Ehm Venga Iscrivetevi Anche Nel canale Davidozo 2008 Lo dico sempre Perché è Mio Grande amico Perché quindi Voglio che Voi lo seguite Tutti voi Così Che tra poco E ha 10 iscritti Voglio Fargli Questa Sorpresa Che forse Facciamo insieme Uno speciale 10 iscritti E io 30 E so Credo che Forse ovviamente Cioè Non lo so eh Non ci siamo ancora Anche Tutto C'è La mia Scrivetevi Ah rega Poi Ditemi se volete Ditemi attacco Eh Ditemi se volete Anche Che porto Pokémon Nel canale Ho fatto Una Cioè Più di una Eh Video Eh Editemi se lo volete E Perché Io A me piace Il canetto Sono ancora piccolo Non è tanto Da Gra Eh Piccoli Eh No Non è Non è Tanto Per Grandi Ma io Vabbè Sto parlando Come un Bambino Di la giro Però fa niente Va bene Vabbè Facciamo la prima Partita E Basta Perché Se no Muoglio In italiano Perché Non so Parlare Dai Vabbè Questa Non era Una Novità Non era Una Novità Peccato Eh Più di Non era Una Novità Si sapeva Si sapeva Molto Anche Tutti Tutti Ma Uno Tutti Tutti E Una Stela Fatta E Doie E Doie E Doie Vabbè Per Per Questo video Tutto Spolliciate Commentate Iscriviti Al canale Perché non Ancora Fatto E niente Ciao Ciao